Si chiama Estate Sicura ed è l'operazione messa in campo dal Ministero della Salute per fornire supporto alle persone anziane e a coloro che soffrono di più l'aumento delle temperature. È stato predisposto un numero verde gratuito, 1500, a cui tutti i giorni, dalle 8 alle 18, risponderà personale altamente qualificato e in grado di soddisfare le richieste di informazione di base, ma anche i dirigenti sanitari, medici, veterinari, farmacisti, chimici, biologi e psicologi per le richieste più complesse. Quest'anno il Ministero ha scelto di avvalersi per la gestione del servizio unicamente del proprio personale per garantire più qualità e trasparenza nella relazione diretta tra istituzione e cittadini. Il call center si affianca alle altre iniziative del Ministero della Salute, il sistema di previsione allarme meteo in funzione già dal 15 maggio scorso sul portale del Ministero e che emette un bollettino per 27 aree urbane del Paese, la pagina web dedicata al caldo e gli opuscoli rivolti alla popolazione.